Settima settimana di campagna elettorale noi continuiamo con le interviste ai principali leader di partito. Oggi abbiamo sentito il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che ci ha detto proprio a proposito della lista dei ministri inviata al Quirinale di cui dicevamo poco fa ma anche sulle trattative che potranno esserci dopo il voto. L'intervista di Alessandra Carli. Di Maio lei ha presentato la lista dei ministri al Quirinale, un gesto giudicato da molti inopportuno, se non dovesse avere la maggioranza è pronto a rivederla o è un prendere o lasciare? Io sto presentando una squadra dei ministri prima perché non ho poltrone da spartire, voglio mettere insieme i migliori, le migliori competenze e energie di questo paese. Tutti gli altri mi criticano, va bene siamo la prima forza politica del paese e hanno paura, ma loro perché non presentano una squadra prima? Forse perché dopo devono spartirsi le poltrone? E il premier? Deve essere necessariamente lei o può essere anche un premier di sintesi? La figura del candidato premier del movimento è la guida politica di una squadra di eccellenze, di ministri, di persone giuste al posto giusto, quindi è fondamentale. Quindi per forza lei? È logico che il movimento si candida a governare con me come Presidente del Consiglio dei Ministri. Le trattative partiranno dalla Lega che sull'Europa, sui vaccini, ha delle posizioni più simili alla vostra? Io non credo che ci sarà bisogno di trattative perché con questa squadra che stiamo presentando, secondo me siamo vicini al 40% per raggiungere la maggioranza assoluta. Per l'elezione dei Presidenti delle Camere farete le consultazioni online? Noi come sempre seguiamo tutte le prassi istituzionali. Quando si tratterà di eleggere i Presidenti delle Camere decideremo quali sono i profili insieme al gruppo parlamentare e insieme al Parlamento. Lei ha fatto il Vice Presidente della Camera, le piacerebbe fare il Presidente dell'Aula di Montecitorio? Io in questo momento sto pensando a portare a Palazzo Chigi il movimento non per vincere ma per cambiare le cose. Non vedo l'ora di fare un Consiglio dei Ministri per andarci a riprendere 30 miliardi di Euro di sprechi che ci sono nel bilancio dello Stato e ridarli agli italiani in sanità, istruzione e meno tasse.